In un primo maggio uggioso e senza turistici si mette anche la notizia di ieri, una doccia fredda anche per i balneari abruzzesi. Il Consiglio di Stato ha confermato infatti la scadenza delle concessioni balneari. La proroga delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024 è illegittima e le gare vanno effettuate subito. Nella sentenza si sottolinea che la risorsa spiaggia è scarsa, al contrario di quanto sostenuto dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della Bolkestein. I balneari sono preoccupati e, a dire il vero, anche arrabbiati. Riccardo Padovano, Sibconfcommercio. Noi siamo prima di tutto imprese, siamo stati autorizzati ad esercitare questa attività, le nostre strutture sono state autorizzate. Quando si fa una gare ci deve stare un criterio. Questi criteri li vogliono scrivere, si parlano, si riempiono a bocchi di indennizzi, indennizzi. Come si stabilisce l'indennizzo? Come si stabilisce l'avviamento commerciale? Come si stabilisce l'investimento morale che uno di noi ha fatto nel tempo? Mia figlia non ha voluto fare un altro lavoro, ha voluto fare questo lavoro. È un investimento anche quello. Perciò l'attività politica in questo momento veramente è scarsa. Non la spiaggia è scarsa, è scarsa l'attività politica. È scarso il governo in questo contesto. È scarso su tutto. Il Consiglio di Stato ha dato uno schiaffo e noi diciamo, ma guarda un po', ma lo Consiglio di Stato che fa le leggi o lo fa il Parlamento? Noi dobbiamo andare a votare. Chi andiamo a votare? Allora abbiamo avuto i giudici. Chi abbiamo avuto a fare questa gente qua? Questo è il tema. Come si fa le gare? Come non si fa le gare? In autorità portuale le evidenze pubbliche si fanno tutti i giorni. Non è un grande problema. Però si devono scrivere i criteri. Questi criteri si vogliono scrivere seriamente. Allora ci sono stati parlamentari che hanno preso in giro buona parte della nostra base. Hanno messo in giro un sacco di frottoli. Vi dovete solo vergognare. Dovete fare una legge. Subito. Insomma Padovano più che un fiume è un mare in piena. E questo bagnatore ci dice che ha speso oltre 200.000 euro per lavori e crede ancora che possano essere un investimento. Invoca anche gli un legge. Il presidente del consorzio turistico di Francavilla, Gianluca Pesce, dice la sua. La cosa più giusta da fare probabilmente sarebbe quella di comprendere che ci sono degli investimenti da ammortizzare e dare una proroga adeguata di alcuni anni, che so, di una ventina d'anni per riuscire ad ammortizzare questo investimento e per poi, cosa principale e soprattutto fondamentale, lasciare questo bene agli italiani e non all'Europa. Ora, una falla sicuramente c'era a Monte. Cioè la falla secondo cui veniva acquistato un bene e questo bene si pensava potesse essere tuo per sempre. Era una falla statale, a tutti gli effetti, statale, comunale, nella quale si è inserito un imprenditore. Si sono inseriti gli imprenditori e probabilmente non erano neanche consapevoli perché loro altrimenti non avrebbero acquistato a questi prezzi. Noi abbiamo acquistato beni a valori enormi. Avrebbe potuto acquistarlo chiunque. Questi imprenditori hanno scelto di acquistare un bene, pensando di poterlo avere per molto tempo. Oggi gli si dice che devono lasciare queste strutture e che devono distruggere quanto hanno costruito. Significerebbe distruggere delle famiglie e significa anche distruggere un sistema balneare ed economico italiano che oltre ad essere caratteristico e fondamentale per il turismo tutto italiano. Immaginate l'abbattimento di tutte le strutture e dover ripartire da zero.